Ovviamente la speranza è che la gestione commissariale, che è sempre un momento straordinario, un momento traumatico anche se vogliamo, perché è giusto, lo ripeto sempre, in tutte le circostanze che le comunità siano amministrate da persone del luogo elette democraticamente, pur tuttavia quando accadono avvenimenti come quello che è accaduto qui a Tortoreto con lo scioglimento del Consiglio, a torto collo c'è la gestione commissariale e se il commissario nell'anno, perché questo è il periodo che mi toccherà gestire, può proseguire l'opera dell'amministrazione e perché no apportando anche correttivi e miglioramenti sempre nell'interesse della comunità benvengano. Dal punto invece di vista della stagione ho da subito avallato perché ho condiviso evidentemente il calendario degli eventi della stagione per cui ho adottato la delibera dopo e spero che i mesi soprattutto di luglio e di agosto siano vissuti alla grande con avvenimenti che possono portare movimento, gioia, contentezza di vivere l'estate però anche contemperando, e qui ci tengo a dirlo, il momento di riposo meritato che soprattutto i villeggianti, quelli che scelgono Tortoreto come luogo per fare le proprie vacanze debbono anche essi vivere.